Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo alla scoperta dell'uscita numero 39 della collezione dei personaggi di Street Fighter realizzati dalla De Agostini. Oggi andiamo alla scoperta di DJ. Allora, spacchettiamo tutto e come al solito ci vediamo statua e fascicolo in allegato. Vai! Ecco qui DJ. Questo è il suo fascicolo. Allora, vediamoci subito la statua. Allora, la testa e i capelli sono stati attaccati male perché si vedono proprio chiare, in maniera chiara si vedono proprio le aperture, le fessure tra un pezzo e l'altro. Per quanto riguarda il resto, invece, il painting è impeccabile. La scultura dei muscoli, degli addominali, dei pettorali è fatta decisamente bene. I capelli, come sempre, sono fatti bene, adesso al di là che sono stati attaccati male. I dettagli sono stati rifiniti con cura. E il resto delle altre parti del corpo, ma anche il braccio non è attaccato benissimo, vedete? Diciamo che anche quest'altro non è attaccato benissimo. Diciamo che i singoli pezzi del corpo sono stati realizzati bene, decisamente bene, però sono stati attaccati abbastanza male. Comunque, questa era la statua di DJ. Adesso passiamo al fascicolo. DJ, il kickboxer della Giamaica. Un esperto di musica e arti marziali. DJ è un campione giamaicano di kickboxing, la cui vera passione, tuttavia, è la musica. La stessa lotta per lui non è altro che un mezzo per trovare l'ispirazione necessaria per comporre e registrare i suoi dischi. Dunque, il combattimento, la lotta per DJ è un mezzo per comporre musica. Questa è l'evoluzione di DJ nei vari Street Fighter usciti nel corso del tempo. Eccolo qui. Poi, dati anagrafici del personaggio. Data di nascita, 31 ottobre. Luogo di origine, Giamaica. Altezza 1,84 m. Peso 92 kg, quindi una bella bestia. Prima apparizione, Super Street Fighter 2 del 1993. Poi, qui invece leggiamo. Se mette a fuoco, leggete anche voi. Oltre ad ascoltare la mia voce, potete anche leggerlo con gli occhi. Quindi, adesso ha messo a fuoco e potete farlo. Allora, DJ ha fatto il suo debutto come uno dei nuovi sfidanti di Super Street Fighter 2, pubblicato nel 1993. In un primo momento, Capcom aveva stabilito che due dei quattro nuovi personaggi di Super Street Fighter 2 dovessero essere fratelli, dall'aspetto e dalle tecniche simili. L'idea fu accantonata, salvo essere ripresa nel 1997 in Street Fighter 3 con i personaggi di Yun e Yang, quando l'azienda giapponese decise di introdurre un maggior numero di volti nuovi in Super Street Fighter 2. Al posto dei due fratelli fu creato il personaggio di Fei Long, che abbiamo già visto, c'è il video sul canale. Rimaneva quindi spazio per un quarto lottatore, che fu appunto DJ, e che lo vediamo oggi. E si sono ispirati nel creare il personaggio di DJ a Billy Blanks, artista marziale e attore statunitense. Come spesso accade, i personaggi dei videogiochi, degli anime, dei fumetti, dei manga, traggono ispirazione da persone realmente esistite. Queste sono le mosse tipiche di DJ, il Jackknife Maximum, da me è considerata la sua mossa più bella. Questo è un poster di DJ, non mi piace neanche sinceramente, ma va bene così. Poi qui abbiamo invece la storia di Street Fighter. Dopo il successo di Street Fighter 2 e The Animated Movie, la battaglia contro Bison divenne una serie animata. E questa serie animata qui è quella che più volte vi ho citato nel corso dei precedenti video e che trovate disponibile su Netflix, a meno che non sia scaduta la licenza, a meno che non sia stata rinnovata la licenza da parte di Netflix, e quindi non trovate più l'anime in questione nel catalogo del network televisivo Netflix. Però io l'ho vista lì, o meglio, l'ho rivista la scorsa estate, lo scorso mese di luglio. Me la sono rivista tutta, è stato un piacere. Bellissima, composta da 29 episodi, come c'è scritto lì sopra. Molto, molto bella. Io vi consiglio di vederla. Insomma, se non la trovate su Netflix, magari provate su Prime Video. Magari la trovate lì perché spesso, quando Netflix perde una licenza, di solito passa a Prime Video e a volte succede anche all'incontrario. Comunque, ve la consiglio ragazzi, perché è molto, molto bella come serie animata. Questa invece è la storia di Capcom, l'azienda che ha creato e che tutt'oggi ancora produce materiale su Street Fighter. Allora, Supereroi al Potere, la serie Marvel vs Capcom. Anche questa più volte vista e più volte citata nel corso dei precedenti video. Nel 1998 Capcom diede il titolo definitivo alla sua saga crossover di riferimento. Una delle saghe appunto più celebri dei videogiochi, presente in quasi tutte le console. Qui leggiamo una questione di licenze. Leggiamo che potrebbe essere interessante. Poi proseguiamo con il discorso. Vi dimetto a fuoco di nuovo, così lo leggete anche voi. Non ha messo a fuoco. Vediamo così. Ok, adesso sì. Nel corso degli anni i videogiochi della serie Marvel vs Capcom sono scomparsi sia dal mercato fisico che da quello digitale, trasformandosi in titoli quasi introvabili. Il motivo di questa sparizione è semplice e facilmente intuibile. La fine del contratto che consentiva a Capcom di sviluppare e commercializzare videogiochi con personaggi dell'universo Marvel. Ma sono usciti poi altri videogiochi. Appunto i due mondi tornano a sfidarsi. Ultimate Marvel vs Capcom 3 continuarono la battaglia tra i due celebri universi. Appunto hanno ripreso a pubblicare questa celebre saga di videogiochi. Ora vi metto a fuoco così lo vedete meglio. Appunto hanno, come dicevo, hanno ricominciato a pubblicare questa storica saga di videogiochi che appunto è tornata anche nelle console di ultima generazione. Questo è un disegno di DJ. Eccolo qui. E questa è la prossima uscita. E la prossima uscita è un personaggio veramente particolare e vedendo l'immagine e la statua di Rolento sarà una bella, bella statuetta. Non vedo l'ora di averla tra le mani. Allora riprendiamo la statua di DJ. E ragazzi io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri video. Vi invito a lasciare un bel mi piace. Vi invito anche a seguirmi sugli altri social network Instagram, Facebook e TikTok. In descrizione trovate anche il link del blog. Se volete fateci un salto. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli.